Gironzolavano tranquillamente a bordo di uno scooter sulla riviera di Pescara quando sono stati fermati dalla squadra mobile hanno mostrato un certo nervosismo i due giovani di cui uno minorenne sono stati perquisiti il controllo ha permesso agli agenti di rinvenire un chilo di hashish a casa di uno dei due il ragazzo maggiorenne le forze dell'ordine hanno trovato materiale utile al confezionamento della droga sono stati arrestati per il concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il maggiorenne è stato tradotto nella casa circondariale di Pescara il minorenne e ai domiciliari l'attività rientra nei servizi di rafforzamento disposti dal questore di Pescara Luigi Liguori per il contrasto allo spaccio in città grazie a tutti grazie a tutti